Offerta della giornata alla Vergine Maria. O Maria Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai Tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle Tue mani e nel Tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo Tuoi nella volontà, nel pensiero, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del Tuo Gesù. Previeni e accompagna o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni, con la Tua ispirazione materna affinché ogni cosa sia pura e accetta al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi o Madre Buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il Tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Nel nome del Padre, del Filgio e dello Spirito Santo. Amen. L'offerta della giornata alla Vergine Maria è un atto di devozione in cui si dedica la propria giornata a Maria, la Madre di Gesù, come un segno di amore e affetto per lei. Riflette una profonda venerazione per Maria, riconoscendo il suo ruolo nella fede cristiana come la Madre di Gesù e come un esempio devozione. Nell'offerta della giornata, si chiede a Maria di guidarci, proteggerci e accompagnarci durante la giornata, è un desiderio di imitare le virtù di Maria, come l'umiltà, la purezza e la fede. È una manifestazione di fede personale e può essere una fonte di conforto spirituale per coloro che la praticano. Iscriviti al canale e segui la fede, condividi per diffondere amore. Preghiere di luce